prova 1 2 3 ok allora tu che stai ascoltando questa cassetta sei una merda sei una testa di cazzo rotto in culo molto probabilmente non sei neanche l'italiano si infatti sei un rumeno sicuramente quindi puoi tornare hai sbagliato la cassetta stronzo non è che se ascolti per i installi sei un figo no è vero anzi fai schifo al cazzo fai cagare la madonna fai cagare di stronti dal naso si sembra un ebreo sei un teo di merda sei un teo del cazzo ma fai un culo fai un culo te e i tuoi genitori ebrei si è vero vaffanculo brucia buccia in base sbunanati si vess sono le 8 e un quarto è vero si è vero visto là vè c'è nel telefono di bresch di biro di spirulino il giro è vero è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi stacco anche a vedere, beh, mi stacco anche a vedere. Non sei gradito nell'aula? Grazie a tutti. 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 E intanto la destra vince anche con i vostri applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eurodesk. Adesso noto. Alubim. Il nostro sito è... www.hububu.com Oh my, il chinesio è tornato con il paquete Oh my, il chinesio è tornato con il paquete Oh my, il chinesio è tornato con il paquete Oh, il chinesio è tornato con il paquete Ma cosa succede quando vai a Argenta? Che ti scoppia la tormenta? Tormenta, perché non si arorrenta? Ma la frescilla è fresca? La frescilla! Ma voi l'avete incontrata? Nulla, nulla sulla Voi l'avete mai incontrata, questa è la Black Priscilla Io no Io ne vedo, io sì Non ne vedo, io forse Non ne vedo, sono io il Black Priscilla Ho sentito è che hai detto a me mi sta venendo il gomito del noisista ma la specie di soffiare basta soffiare a posto? è ora bene basta 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 guarda che l'amplificatore c'era già qua sto scherzando di quel mio foco questa è per la voce però si lo vedete è un barometro è un barometro è una cosa più bella posso staccare? si si